Ciao, io sono Tommaso Isabella, curo la sezione di Fuori Formato, che si occupa sempre di cinema sperimentale d'avanguardia, nel contesto di filmmaker, che già siamo in un ambito di ricerca, quindi facciamo cose strane, anche spesso programmi storici. Negli anni ci siamo spesso occupati di cinema austriaco a Fuori Formato e quest'anno lo facciamo in una maniera particolare perché i tre programmi di Fuori Formato sono dedicati ad Amos Vogel nel centenario della sua nascita. Amos Vogel che appunto è nato a Vienna nel 1921 ma poi è stato in realtà diciamo un new yorkese d'adozione dopo la sua fuga nel 1938 dall'Austria occupata dai nazisti. Vogel di famiglia ebraica che ne è perso una parte anche nei campi, insomma si spostò a New York e da lì insomma ne fece la base della sua esistenza e della sua attività. E cosa faceva Vogel appunto? Vogel non era un filmmaker, un regista e invece direi che è stato una figura veramente di riferimento, un apripista, un pioniere per chi fa il lavoro che facciamo noi a filmmaker, cioè che è quello di diciamo selezionare e programmare film ma piacerebbe dire piuttosto di creare incontri intanto tra i film e le persone e anche tra i film e i film. E ovviamente l'importanza e l'influenza lunga di Vogel è ancora direi la sua attualità diciamo dopo mezzo secolo da quando insomma ha iniziato questa sua attività appunto di critico, programmatore, distributore è proprio il modo, cioè quali film diciamo andava a cercare e il modo in cui li programmava. Siamo quindi diciamo nella New York del secondo dopoguerra, nel 47 Vogel e sua molle Marsha che è sempre stata come dire un altro cuore pulsante insieme a lui di questo cine club appunto che è Cinema Sixteen, viene fondato nel 1947 con l'idea appunto di mostrare film che come diceva un loro slogan non potete vedere altrove, cioè film che erano semplicemente o ignorati o censurati dal mercato finché non raggiungevano le sale commerciali. Quindi fin dall'inizio l'attività di Vogel è appunto un'attività diciamo culturale ma anche profondamente politica, profondamente schierata nel senso di andare contro e al di là di Hollywood, al di là di quello che era come dire l'orizzonte medio del cinema per tante insomma per tutte le persone, cosa che probabilmente anche oggi, però appunto Vogel fu pur avendo come dire dei precedenti sicuramente i cine club o le film society come si chiamavano negli Stati Uniti insomma esistevano già da prima, si sviluppano tra gli anni 20 e 30 però fu veramente un magnete, un catalizzatore di forze, di persone e riuscì veramente a intanto recuperare diciamo film che non erano visti da film diciamo di autori che per noi oggi sono come dire scontati nel canone moderno non parliamo non so di Antonioni, Bresson, di Agnevardà, di Polanski, tantissimi che non erano, furono mostrati per la prima volta appunto nelle sale di proiezione di Cinema 16, a film che erano proprio destinati a settori specializzati come per esempio i film didattici, i film scientifici, psicologici, di propaganda e ultimo e non ultimo appunto il cinema sperimentale d'avanguardia che già appunto aveva una sua vita in piccole appunto piccole film society così ma che in Cinema 16 in questi 16 anni di attività fu appunto dal 47 al 63 trovò diciamo una casa e anche un punto di diffusione perché poi Cinema 16 oltre a appunto raccogliere diciamo al massimo della sospensione aveva 7000 membri che riempivano quindi sale, diverse sale, non c'era un solo cinema fisicamente le proiezioni avvenivano in vari spazi però appunto raccoglieva questo pubblico new yorkese molto variegato dove c'era un po' di intelligenza c'erano anche tanti giovani appassionati, tanti che sarebbero poi diventate figure cruciali del cinema d'avanguardia degli anni seguenti e oltre a questo Cinema 16 fu molto importante anche appunto nel raccogliere queste opere a un certo punto è creare un catalogo di distribuzione per fare circolare anche insomma tutto il resto della nazione questi lavori che appunto altrimenti non sarebbero rimasti invisibili. Oggi alle 19.30 con un programma che si intitola Un'educazione sovversiva che raccoglie un po' diciamo certe radici dadà surrealiste del cinema di quel periodo e in questi programmi io ho cercato per quanto possibile di creare una mescolanza appunto di visioni, di generi, di tipologie di film che era proprio uno dei caratteri diciamo più pregnanti e più importanti che ebbe come dire la più lunga influenza per quanto riguarda il tocco diciamo di programmazione di Vogler cioè quello di creare appunto dei programmi eclettici con film che collidevano anche tra loro a volte invece si prendevano come dire trattavano temi affini ma da punti di vista molto diversi c'era qualcosa di Eisensteiniano diciamo nel montaggio dei film e di come venivano composti nel diciamo con le possibilità che abbiamo avuto nel recuperare le coppie cerchiamo di fare lo stesso. Un'educazione sovversiva si chiama il programma di oggi perché appunto queste sono alla fine diciamo i due poli secondo me dell'attività di Vogler appunto cioè quella da una parte di un pedagogo che ha sempre tenuto molto a espandere gli orizzonti del pubblico ma anche poi a provocarlo, a scioccarlo diciamo. Il cinema Sixteen era anche un luogo di conflitto spesso e dall'altra parte appunto la sovversione cioè l'andare oltre le forme, i valori insomma gli orizzonti di un mondo così come sono acquisiti che appunto l'eredità poi anche del suo grande libro che non ho ancora citato che è Cinema come arte sovversiva che insomma ristampato tra l'altro quest'anno in inglese che rimane uno dei testi più insomma incendiari, partigiani e entusiasmanti diciamo nella storia del cinema. Grazie a tutti